Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale, io sono Domingo. E' appena uscito sul canale YouTube di League of Legends Italia il video cinematica di Velvet. Tutto ciò che sarà il titolo. Adesso ci facciamo una piccola reaction e lo analizziamo un pochettino insieme. Nell'ultima cinematica ci eravamo lasciati con Kaisa che stava tornando nel Void. Se non ricordo male c'era anche Rek'Sai che la stava inseguendo. Adesso vediamo un po' Kaisa che è atterrata nel Void. Esteticamente fighissima. La CGI è fatta veramente bene. Delle farfalle che portano a una piccola barca. Delle mani. Che hanno divorato, che hanno fatto? Ok, questi dovrebbero essere... Ecco, un nuovo champion di Velvet. Il labiale non è a sync di Velvet. Aspetta, almeno così mi sembra. Ok, Kaisa distrutta in due secondi. Sembra un fantoccio la faccia. Infatti, dal leak. Madonna, altro che viego. Dicevo, dal leak sapevamo che Velvet aveva due forme. Quella umanoide e quella, diciamo, la sua reale. Quello mostro del Void. Velvet in qualche modo controllerà Kaisa. Che c'è la teoria dove dice che Velvet può controllare tutte le persone e tutti i mostri del Void. O la maggior parte, non si sa. Poiché è stata aggiornata la splash art su League of Legends Universo, dove c'è questa Kaisa con degli innesti sull'armatura. Probabilmente questo è il momento in cui, dove verrà fatto questo. E ipotizzo di vedere uno scontro Kassadin-Kaisa in una prossima cinematica. Poi magari non lo fanno, però sicuramente Kassadin apparirà. Visto che anche a lui hanno cambiato la splash art. Spero che cambieranno anche il modello in game. Vedremo, vedremo. Inquietante. Molto di più di... Di viego. Viego... A confronto da solo un marmocchio. Mi aspetto di vedere sicuramente Kassadin che fa un po' di macelli nel Void. Visto che Kassadin è tuttora nel Void. È un po' breve. Non mi aspettavo di vedere di più. Ma dobbiamo aspettare, mi sa, per una prossima cinematica. Per questo video è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campionina per non perdere i video futuri e lasciare un like per supportare appunto il canale. Ciao a tutti. Da notte. Ciao a tutti.